buongiorno a tutti adesso l'anzarino si grazie oggi abbiamo anche degli ospiti che salutiamo asd futsal treviso il signor doy ma se vieni qua prego prego ma anche uno per parte dopo parliamo anche con loro intanto sta confiato con gli altri perché è una bella iniziativa e quando hanno sentito parlare bisogna farli portare alle cose allora andiamo per gradi prima cosa fondamentale anche oggi c'è il bollettino poi due tre informazioni da darvi poi presenterei ovviamente la squadra della futsal quindi condoimo e dopo le domande il bollettino intanto ieri abbiamo fatto nell'ultima 24 ore 25 mila 606 vaccini ma non c'ho i vaccini nel cartello dopo ce li ho e questa è la prima roba che vi dico invece i cartelli come giustamente dice alda van zan eccoli qua sono tamponi molecolari e mi ha fatti 6 milioni 505 mila tamponi rapidi 6 milioni 887 mila in totale sono 13 milioni 392 mila tamponi nelle ultime 24 ore abbiamo un esito di 427 contagiati questi 427 contagiati contagiati li abbiamo intercettati pensate con quasi 47 mila tamponi 46 934 tamponi incidenza fra l'altro che si sta abbassando 0 91 per cento questa potrebbe essere la prima notizia l'incidenza si sta abbassando cioè il numero dei positivi sul totale dei tamponi comincia avere una flessione positivi ad oggi infatti sono vedete anche qui il numero che si sta abbassando 12 mila 589 eravamo sempre sopra 13 mila il numero dei positivi dall'inizio del contagio dal 21 febbraio 462 mila 682 quanti sono i ricoverati qua non è proprio che si stiano tantissimo abbassando 320 in totale si considerate che dicembre avevamo 10 volte tanto ne avevamo 3400 di ricoverati e se volessimo vederla fino in fondo lo ricordiamo sempre i cittadini con il numero di contagiati di oggi dovremmo avere almeno in ospedale dei 1.500 ai 2.000 ricoverati invece ne abbiamo solo 320 perché la vaccinazione è una grande discriminante di questi 320 261 sono in area non critica 56 in terapia intensiva vedete la terapia intensiva si sta abbassando di poco ma si sta abbassando ovviamente nella terapia intensiva questi 56 tra l'altro questo è un signore di treviso di 79 anni che è morto questi non vaccinato questi in terapia intensiva sono l'ottanta per cento dei 56 non sono vaccinati nell'area non critica quasi un 70 per cento sono non vaccinati totale delle terapie intensive non corona non covid sono 342 totale dei decessi 11.728 più 7 i dimessi sono 23.094 inutile che vi dica sempre il solito discorso ma comunque va sempre la pena ripetita giusto filippo che si distratto bene bene sul 70 per cento 66 70 per cento in area non critica e 80 per cento in terapia intensiva questi sono il totale dei positivi da noi intercettati con i 13 milioni di tamponi questi sono coloro di questi 23 mila che hanno avuto necessità di andare in ospedale quindi quando si parla di cure domiciliari vuol dire che 400 e quasi 40 mila dei 4 e 62 anzi 439 mila dei 4 e 62 li abbiamo curati a casa voglio ricordare se qualcuno avesse dubbi che fra l'altro il veneto con le terapie domiciliari grazie ai medici di base alle usca al fai da te anche di tanti al fatto che molti erano asintomatici eccetera ha comunque una realtà virtuosa perché noi facciamo anche l'ossigeno terapia a casa se potessimo fare i monoclonali figuratevi se non provvederemo anche a quelle inoculazioni quindi questa è la situazione voglio ricordarvi che a proposito i monoclonali avete visto i dati di queste ultime settimane che il veneto è la regione che in assoluto ne utilizza di più di monoclonali tra l'altro vi ricordo che la prima volta che parlai di monoclonali fu qualche giorno dopo la notizia che uscì su bloomberg che diede la notizia della venuta cura di trump del presidente trump con i monoclonali tanto è vero che dopo 24 ore scarse ebbe già la prima videoconferenza con l'azienda che produceva quel monoclonale oggi non c'è più solo quell'azienda e i monoclonali funzionano devono essere somministrati entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi in italia se prima c'era diciamo una sorta di vincolo a favore degli over 65 cioè con più di 65 anni tu comunque il monoclonale lo potevi fare a prescindere e per le altre categorie ci volevano comorbidità ad esempio un diabetico con meno di 65 anni era comunque un candidato al monoclonale oggi l'accesso è libero tanto è vero abbiamo intenzione di far mutuare un'esperienza che ha fatto l'Ulss2 di Benazzi gli va dato merito di questo non so se altre Ulss lo hanno fatto ma Benazzi me l'ha segnalato perché il monoclonale ha un problema l'ingaggio del paziente cioè nel momento in cui tu hai il raffreddore non è che uno ti chiama e ti dice scusa vale che se vuoi vai in ospedale ti fanno l'endovena e ti introducono gli anticorpi e finisce lì fra l'altro con esiti assolutamente positivi allora cosa facciamo adesso? l'Ulss2 lo fa e chiederemo a tutti gli altri direttori di mutuare questa virtuosità nell'esito del tampone nell'esito positivo c'è scritto lei potrebbe sottoporsi alla cura alla terapia con l'anticorpo monoclonale contatti velocemente questo numero per avere informazioni quindi questo è un ulteriore elemento per cercare di ingaggiare e di informare scusatemi i pazienti poi i pazienti decideranno però insomma penso che ormai di letteratura sui monoclonali ce n'è perché poi se ci pensate siamo partiti anche qui leggo nei social qualche premio Nobel della medicina che dice a Zaia ci ha preso in giro con la banca del plasma la banca del plasma esiste pensate che gli antichi veneziani poi pubblicheremo sta storia inoculavano, estraevano il pus dall'infetto e facevano una sorta di vaccino nel senso che inoculavano la malattia sperando che la produzione anticorpale fosse tale per cui uno potesse già immunizzarsi la banca del plasma sostanzialmente dice chi ha gli anticorpi glieli presta anzi glieli dona a chi non ce li ha e quindi è una terapia che si fa in ospedale dottoressa De Silvestro siamo stati i primi ad ideare la banca del plasma viene ancora somministrato il plasma ne approfitto per ricordarlo però è tanto vero che poi c'è stata un'evoluzione in questi mesi l'anticorpo monoclonale è l'evoluzione ovvero è l'inoculazione direttamente di anticorpi di sintesi nei pazienti quindi non è che abbiamo abbandonato il plasma diciamo che all'aspirina oltre all'aspirina è arrivato anche qualcosa di più efficace per il mal di testa mettiamola così ma nessuno ha dimenticato le terapie di base i nostri medici possono chiedere di somministrare plasma monoclonali o antivirali o quello che ritengono di somministrare ecco ricordo sempre che i nostri medici parlo di medici di base in particolar modo possono utilizzare tutti i farmaci del prontuario cioè tutti i farmaci che si trovano in commercio addirittura li possono utilizzare anche off-label cosa vuol dire? che non è vero che se uno vuole utilizzare l'aspirina per il mal di piedi non lo può utilizzare lo può utilizzare sì però deve dichiarare col consenso informato che sta utilizzando un farmaco autorizzato per una patologia lo sta utilizzando per un'altra avete visto ad esempio il dibattito sull'invermectina che è un vermifugo un off-label cioè può decidere anche di utilizzarla quindi è abbastanza anacronistico sentire medici che si lamentano di non poterlo utilizzare quando lo possono fare e nessuno può imporre ai medici un protocollo di cura questo deve essere chiaro il medico in scienza e coscienza fa quello che pensa sia la miglior cura per il proprio paziente anche perché tutto si basa sul fatto che il medico conosce il paziente al di là del prontuario quindi questo semplicemente è mettere in fila le cose vi informo che diciamo la prima simbolica inoculazione e dopo l'assessore Lanzarin vi dirà un po' di numeri che è giusto visto che si è occupata lei che vi dia due o tre numeri della terza dose ciao la faremo prima in Italia con i beh noi già come si può dire siamo già sul petto però in maniera così ufficiale la faremo con il generale Figliuolo all'Hub di Villorba lunedì 20 al mattino e quindi avremo lì dei fragili e ovviamente parallelamente anche se non cambiano i programmi siamo organizzati così con il generale Figliuolo il mattino Hub di Villorba ve lo dico in anteprima non lo sa neanche bene il dottor Benazzi non sa nessuno adesso gli verrà l'orticalia però insomma nel senso vorremmo iniziare anche oltre che a quello che si può fare nei corsi degli ospedali vorremmo anche iniziare anche in un hub no? e ci sarà il generale col quale sapete che ho un ottimo rapporto e e direi che ancora è un'occasione per parlare di vaccinazione le vaccinazioni restano volontarie non so se devo tradurlo in altre lingue noi non abbiamo mai predeccato la obbligatorietà delle vaccinazioni al punto tale che anche il famoso documento che ha cinque punti dei governatori c'è un punto nel quale dice difendiamo la volontarietà di accesso alle vaccinazioni non è che mi sto giustificando sto solo spiegando che abbiamo l'obbligo di garantire la vaccinazione a chi la vuole avere e l'obbligo di tutelare chi non vuole vaccinarsi ma ci fermiamo qui poi ognuno fa quello che vuole però è innegabile che la vaccinazione stia funzionando dopodiché la volontarietà ti porta a decidere se vuoi partecipare a questa campagna vaccinale oppure no quindi sono un po' come le azioni di Veneto Banca ve lo ricordate se te le compri perché hai deciso te di comprarte non perché te l'abbiamo detto noi io passerei la parola all'assessore Lanzarin dopo presentiamo l'ASD Futsal Treviso e dopo domande Allora per quanto riguarda terza dose voi sapete che c'è stato il pronunciamento di AIFA che ha quindi definito chi sono i soggetti oggi che possono accedere alla terza dose in primis tutti i soggetti immunodepressi specifica soprattutto i trapiantati e poi altre categorie ma siamo in attesa di avere anche l'elenco delle categorie complete che possono fare la dose aggiuntiva quindi parla di dose aggiuntiva dopo 28 giorni dalla seconda dose il secondo la seconda gruppo di categorie invece è per gli over 80 facendo riferimento quindi ai soggetti più fragili anziani case di riposo quindi comprese anche le RSA per anziani in cui l'indicazione è di fare la dose booster qua parla di dose booster quindi una dose che va ad aggiungersi a fare una maggiore protezione se non si è raggiunto una copertura di un certo tipo dopo sei mesi dalla seconda dose noi siamo in attesa della circolare del ministero che andrà a ridefinire queste cose in modo che ci sia anche poi l'elenco eventualmente quando parliamo di superfragili di quali sono le categorie dei superfragili a cui è indicata la dose aggiuntiva ci stiamo preparando nel senso che noi abbiamo già dato indicazione di riaprire i centri specialistici all'interno delle aziende penso al centro tra pianti al centro per la fibrosicistica insomma quelli che sappiamo già essere le categorie che devono quindi andare incontro alla terza dose oggi pomeriggio farò un incontro con gli enti gestori delle case di riposo e le USL si stanno già organizzando per iniziare la somministrazione della terza dose dalla settimana dalla settimana prossima e anche apriremo contemporaneamente il portale delle prenotazioni specifico per quanto riguarda appunto i soggetti fragili in ultimi numeri che ci sono stati che abbiamo estrapolato rispetto al nostro banca dati ci dicono che noi avremo per fine settembre circa 100.000 persone ovvero 80 o sanitari perché poi a cascata ci sono anche i sanitari con la dose booster circa 100.000 che hanno superato i 6 mesi e fine ottobre circa 120-130.000 aspettiamolo a circolare ma intanto stiamo già preparando tutta la macchina per sia nei centri specialistici sia poi all'interno delle case di riposo con le US che insomma i direttori generali si stanno organizzando e poi nei nostri centri vaccinali per tutti i resti delle persone che possono accedere quindi alla terza dose 28 per la prima categoria e 6 mesi per la seconda è una bella sfida anche perché a questo ci sono l'anti-influenzale con l'anti-influenzale sì allora noi abbiamo fatto anche una richiesta specifica non abbiamo ancora avuto risposta se è possibile fare in contemporanea l'anti-influenzale sembrerebbe insomma che non ci sono pronunciamenti oggi in questa direzione però abbiamo fatto una richiesta specifica ad AIFA e all'Istituto Superiore di Sanità quindi aspettiamo la risposta è chiaro che se dobbiamo farlo in due momenti distinti prima iniziamo a immunizzare gli over 80 poi riusciamo nel mese successivo quindi per novembre a immunizzare sempre questi soggetti fragili con l'anti-influenzale mi sono dimenticata di dire che ci si fa l'eterologa esattamente nel senso la terza dose è eterologa nel senso che se uno ha fatto AstraZeneca fa allora la terza dose è solo con vaccino RNA quindi non con le altre tipologie di vaccini se uno ha fatto la prima dose con il vaccino insomma con AstraZeneca o con Johnson & Johnson fa quindi Pfizer o Moderna terza dose se non riesce a fare uno che ha fatto il vaccino con Pfizer o con Moderna e non è disponibile in quel momento Pfizer o Moderna può fare la terza dose anche dell'altro vaccino cioè se uno ha fatto la vaccinazione come la sottoscritta che però non è uno dei soggetti insomma oggi che sono inclusi con Pfizer e dovesse esserci la terza dose anche per la sottoscritta io quindi mi prenoto per fare la terza dose potrei fare se non c'è Pfizer anche Moderna è importante dirlo ai cittadini perché vuol dire che adesso tutta la vaccinazione avviene in questo senso dopodiché io penso sinceramente che debba essere garantito chi lo chiedesse anche la continuità vaccinale no? nel senso che un vettore virale quindi parlo di Johnson & Johnson piuttosto che di AstraZeneca che volesse avere la conferma di quel vaccino però questo è da chiedere al CTS AIFA e sarà un quesito che porremmo però prima di passare alle domande e ringrazio l'assessore Lanzarin vorrei presentare i campioni d'Italia che non è un caso che ha medaglia appesa al collo è una bella iniziativa fondata nel 2016 e a sede a Montebelluna il presidente Stefano Doimo ed è l'unica realtà di calcio a 5 per i povedenti sono diventati campioni esistenti in Veneto ovviamente sono diventati campioni d'Italia hanno vinto la Coppa Italia di categoria e niente noi volevamo ospitarli perché questa è una disciplina nata nel 1930 giusto? se non ricordo male ci sono anche i campioni e quindi magari li facciamo chiamare direttamente dal presidente Doimo comunque gli atleti sono qui sono Cosaro se venite venite qui grazie Dobranovic Comito e poi un altro atleta Sfoggia ovviamente scusate dico solo il cognome per far più veloce poi invitiamo anche il segretario Babbo Giada e Doimo Riccardo ma magari venite da questa parte grazie Giacon Giovanni Battista l'allenatore c'è Kim Barbara dirigente Fantinato Arianna dirigente e poi tra gli accompagnatori Comito Valentina Tessaro Martina e la Lasica Prego due parole Doimo Anzitutto grazie buongiorno a tutti mi scuserete se non la dimestichezza del presidente Zaglia con lo strumento mediatico ok grazie no allora eccola vedete che lui è più ok mi pare a me anche portare i saluti del resto della squadra che purtroppo non è potuto essere qui oggi con noi perché questa è una realtà piccola e quindi atleti dirigenti tutta gente che purtroppo per fortuna direi purtroppo in queste occasioni lavora e quindi non sempre riusciamo ad essere al completo è una realtà piccola però è una realtà orgogliosa lo dimostra lo scudetto che abbiamo al petto abbiamo difeso permettetemi di ripetere con orgoglio sacrifici da cinque anni di duro lavoro da parte della società di duri allenamenti da parte dei giocatori che ci hanno sempre creduto anche nei momenti difficili e alla fine abbiamo dimostrato o speriamo di aver dimostrato che il modello del lavoro della dedizione ha pagato vorrei dare un numero di quanti siete per il vivaio con tutto allora vorremmo avere un vivaio purtroppo questo è un mondo quello del calcio 5 ipovedenti particolare che soffre nei numeri quindi parliamo di realtà che se arrivano ai 13 atleti come la nostra hanno già delle rose abbastanza lunghe naturalmente per una disciplina difficile e esigente in termini di energie fisiche come il calcio 5 sono rose molto corte quindi questo va a maggior è una nota di merito ulteriore verso gli atleti in Italia sono sei realtà al momento e appunto il movimento sta cercando anche di superare un po' una fase di carenza di numeri di carenza purtroppo bisogna dirlo anche di risorse economiche e soprattutto di promozione per cercare di far conoscere questa categoria questo calcio 5 e di far capire a chi magari vive lo sport da fuori o comunque appassionato che è uno sport di livello è bello da vedere sono atleti come tutti gli altri che hanno le stesse aspirazioni la stessa voglia di competere di vincere anche perché ovviamente è un po' il sale dello sportivo la voglia di essere agonista però è anche un'opportunità per tutti quei ragazzi che soffrono purtroppo di disabilità visiva per mettersi in gioco c'è una consegna c'è una bandiera ufficiale grazie 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 fra l'altro voglio ricordare che i veneti nelle paralimpiadi su 69 medaglie ne hanno portate a casa 26 questo è il caso di dire che per noi è un momento di orgoglio anche perché persone diversamente abili dimostrano quanta determinazione ci sia anche nello sport e questo insomma è una delle caratteristiche di Veneti diciamo che noi non gareggiamo per partecipare mettiamola così bene, se avete domande prego Alda Vanzan Filippo ti ha ceduto la parola Alda Alda ci mancherebbe